18 novembre 1959, a Lowe's Theatre, è presentato in anteprima mondiale Ben Hur di William Wiley. Con 500 attori, 100.000 comparse, 15 milioni di dollari di costo di produzione e 10 anni di preparazione. Si tratta del colossal per eccellenza della storia del cinema. Il film porta a casa Ben Undici Oscar. È arrivato a Roma William Wiley, il regista della signora Miniver, dei migliori anni della nostra vita, di vacanze romane. Wiley è qui per dirigere il film Ben Hur, che da 100% ha il film che sarà...